Il dolore, opera del divino amore, di padre Stefano Maria Manelli. Questo pensiero di padre Pio non è certo alla portata di tutti i cristiani ordinari legati alla loro mediocrità nell'impegno della genuina vita cristiana. Padre Pio, infatti, parla di amore al dolore, che è l'opera della divina sapienza e che, ancora di più, ci rivela l'opera del suo amore. Sono espressioni, queste, che fanno tremare il nostro modo di ragionare e di sentire, che è, invece, istintivamente contrario alla stessa parola dolore, per noi inconciliabile e incompatibile con la parola amore. Ancora di più, inoltre, la realtà dell'amore è pensata, di solito, come realtà di dolcezza e letizia, di gusto e felicità, che si contrappone al dolore, lo esclude, lo elimina. Come mai, allora, padre Pio può parlare di amore al dolore? Padre Pio stimola e spinge alla riflessione e alla meditazione e insegna, perciò, che il contrario dell'amore non è il dolore, ma il peccato. Che cos'è, infatti, il peccato? È un'offesa grave o leggera a Dio amore. Ciò che è contrario in opposizione offensiva a Dio amore, quindi, è peccato. Amore e peccato, perciò, si escludono a vicenda. Dove c'è l'amore, non ci può essere il peccato. Dove c'è il peccato, non ci può essere l'amore. Orbene, per riparare il peccato e per recuperare l'amore perduto con il peccato, Dio, nella sua divina sapienza, si serve del dolore che fa giustizia della colpa commessa e ridona all'amore perduto. Ecco la grande funzione del dolore, quindi, a cui non pensiamo mai che, invece, merita di essere accolto e amato, perché è libera, purifica dalle colpe e ridona all'amore perduto, l'amore a Dio e al prossimo. La parabola evangelica del figliol prodigo, che fa soffrire il padre, lasciandolo e andando via di casa, ci insegna con chiarezza che fu proprio il dolore della fame più acuta e umiliante, quello di invidiare le ghiande che i porci potevano mangiare e lui no, a fargli comprendere l'offesa fatta all'amore del padre, facendolo ritornare pentito fra le sue braccia. Ancora di più, padre Pio esorta a ciascuno di noi ad essere amanti del dolore, perché esso rivela l'opera dell'amore di Dio. Qual è quest'opera? Basta guardare Gesù bambino nella greppia dell'umile e povero presepe. Basta guardare Gesù crocefisso, fra gli strazi della morte, come un malfattore. Basta guardare un tabernacolo eucaristico, dove Gesù si è ridotto ad un'ostia per farsi mangiare. Tutto questo costituisce l'opera dell'amore di Dio. Qui è l'amore infinito di Dio che si manifesta nel dolore più umiliante, la stalla di Bethlehem, più straziante la croce del Calvario, più nascosto fino all'annientamento il frammento di un'ostia. È l'amore più grande nel dolore più grande. Questa è l'opera dell'amore di Dio. E Padre Pio, conformato a Gesù, ha amato appassionatamente il dolore più grande per possedere l'amore più grande e consumante.